Una imbarcazione con 250 passeggeri a bordo è affondata oggi in Bangladesh nel fiume Padma, senza che per il momento si possa formulare un bilancio di eventuali vittime. Lo segnalano i media bengalesi. Secondo la polizia, consultato dal portale DBS24, l'unità, denominata PINAC-6, aveva lasciato la località di Cavrecandi e si dirigeva Michigani. Fonte giornalistiche locali hanno indicato che nel naufragio almeno 110 persone si sarebbero salvate. Grazie per la visione!